Siamo un'azienda calabrese che è un allevamento di lumache più che altro che abbiamo in Calabria e facciamo come specialità le lumache sia in sughi, antipasti e patè e in più con la bava ricaviamo la cosmetica. In più abbiamo fatto un piccolo angolo per portare i nostri prodotti tipici calabresi ovunque noi andiamo, in qualsiasi fiera, in qualsiasi festa noi proponiamo i nostri prodotti sia a base di lumaca che i prodotti tipici calabresi. Noi rappresentiamo l'Anacre, è un'azienda di modica che produce questo famosissimo cioccolato che ormai è anche stato premiato con l'IGP a livello europeo, è anche l'unico ad avere l'IGP a livello europeo e l'abbiamo portato qui a Napoli per far degustare questo particolare cioccolato che ha una lavorazione fatta a mano e a freddo, quindi è molto particolare. Se vogliono ci possono raggiungere qui a Via Diaz e provare questa bontà.